Buongiorno a tutti da Alessandro di 4W d'Italia e oggi andiamo a fare la nostra 4W d'Italia Academy. Parleremo di un aspetto che spesso viene sottovalutato e trascurato, che è un'operazione di manutenzione fondamentale per tutti i motori, che è quella della distribuzione. Le tabelle di manutenzione sono molto chiare al riguardo e la distribuzione va fatta o in base ai chilometri percorsi, che noi raccomandiamo di non andare mai oltre i 120.000, questo è un motore 2.8 CRD di un Wrangler JK, quindi stiamo parlando di questo, ma ogni Jeep ha la sua tabella di manutenzione, per quelle Jeep che hanno un motore con la catena e non con la cinghia, la manutenzione va fatta più avanti. Questo è un aspetto fondamentale, la distribuzione sostanzialmente di cose è fatta della cinghia di distribuzione che ha un problema che negli anni, anche se i chilometri non sono stati percorsi, tende a seccarsi, un pochino ad allungarsi e spesso anche a rompersi con dei danni che poi vi farò vedere cosa succede. Quindi cinghia, pompa dell'acqua, questo è un pezzo di tendi cinghia e questa è la cinghia dei servizi. È un'operazione piuttosto macchinosa da fare, quindi è una cosa che non vi consiglio di fare. Generalmente per quanto riguarda il tempo non si deve mai andare oltre sei anni. Se si spezza la cinghia in distribuzione è un guaio, perché si piantano le valvole e nella maggior parte dei casi bisogna rifare il motore. Adesso vi faccio vedere cosa è successa a una Jeep analoga a questa che non ha fatto questo tipo di operazione di manutenzione costante. Questa Jeep è saltata la distribuzione, ovviamente vi noterete che manca qualcosa nel cofano e quindi o le mettevamo i pedali o avevamo un'altra alternativa che è quella di rifare il motore. Vi faccio vedere che tipo di interventi sono stati fatti e quindi ci spostiamo verso il motore. Ecco, questo è il motore, è sempre il 2.8 CRD che appunto a causa della rottura della cinghia di distribuzione abbiamo dovuto proprio rifarlo completamente, la testa, le valvole, bielle, bronzine, guarnizioni e non è un intervento che costa poco. Quindi quello che vi consiglio, come vi dicevo all'inizio di questo video, è non sottovalutare la distribuzione. La nostra officina ne fa tantissime distribuzioni proprio perché è una cosa che controlliamo sempre appena una Jeep entra nella nostra officina. Se volete avere informazioni sui costi e quant'altro potete contattarmi via WhatsApp, il mio numero è 338-73-12725. Alla prossima!